A Sarzana parlo del movimento delle opere classiche, ma soprattutto delle opere della Grecia antica di cui io mi occupo di più. È un movimento che proietta queste opere fuori dal tempo e dallo spazio, in una dimensione quasi metastorica che sfiora l'eternità. Negli autori moderni, scrittori, filosofi, poeti moderni, noi sentiamo risuonare i classici, anche se questi autori magari non hanno lavorato sui classici. Sia che ci abbiano lavorato che non ci abbiano lavorato, noi sentiamo la potenza degli antichi. Per questo io ragionerò sul movimento nello spazio, parlando soprattutto della letteratura di Hemingway rispetto a Omero. Hemingway non è un esperto di antichi, ma nello stile di Hemingway si sente vibrare lo stile omerico. Poi ragionerò su una dimensione filosofica, sul tempo, e quindi parlerò di Nietzsche rispetto a Platone, due amici nemici che scardinano il tempo, le coordinate temporali. E infine andrò a parlare della poesia e quindi dell'anima, di una dimensione spirituale, perché ogni volta che ci si muove nello spazio e nel tempo si finisce per andare oltre quelle coordinate spazio temporali in cui ci sembra che solo sia possibile la vita. Oltre è una dimensione spirituale, la dimensione dell'anima, dove i poeti dominano e quindi Saffo e Cavafis.